I saluti del direttore Michele Lanzinger, anche noi siamo molto felici di essere qui al Parco dei Mestieri e quest'anno proponiamo un approfondimento sugli animali del bosco. È anche bello riuscire a collaborare anche con gli enti che comunque sono presenti al parco, quindi ad esempio quest'anno ci siamo messi d'accordo con il WWF, abbiamo detto ah voi fate l'orso allora noi potremmo approfondire gli altri animali così possiamo dare appunto una panoramica un po' su tutti gli animali del bosco. E grazie a tutti. Grazie Stefania. Grazie. 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 Grazie.